possibilità di prorogare o meno l'approvazione di questa sostanza. Il Governo italiano, nell'ambito del Comitato permanente sulle piante, gli animali e i mangimi, ha espresso una posizione non favorevole al rinnovo dell'approvazione, astenendosi al momento del voto. Quindi, al momento, non sembra necessario intervenire con specifiche ulteriori attività di controllo, viceversa, nei prossimi mesi, in base al mutato quadro autorizzativo e a seguito di una probabile revisione dei limiti massimi negli alimenti, potrà essere necessario reimpostare le verifiche in merito alla presenza di glifosate negli alimenti. Grazie. Grazie, Sottosegretario. La deputata Terzoni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Prego, Onorevole. Grazie, Presidente. Beh, onestamente il voto di assenzione non significa proprio un no. Significa che non si vuole prendere una netta decisione di no, ma si aspetta di vedere magari quello che succede. Quindi, onestamente, non la ritengo un no netto. Ed inoltre vorrei ricordare, sì è vero, il grifosato è legale in Europa, ma attualmente la deroga è scaduta. La deroga è scaduta e c'è in discussione proprio il Consiglio europeo di rinnovare questa deroga. E questo Governo ha preso un impegno molto importante proprio in quest'Aula ed è quella di andare in Europa e dire assolutissimamente no al rinnovo del glifosato sul territorio europeo e quindi di conseguenza sul territorio italiano. E se poi questo Governo mantiene gli impegni, anche una volta che c'è stata la deroga al Consiglio europeo, può benissimo dire che nel territorio italiano, per il principio di precauzione che ancora c'è, visto che l'accordo internazionale TTIP non è ancora in vigore, può ancora applicare il principio di precauzione e non far utilizzare il glifosato all'interno del territorio nazionale. Per questo c'è anche una proposta di legge incardinata in Commissione Ambiente che purtroppo non va avanti perché non c'è la volontà politica della maggioranza di questo Governo di portarla avanti, che è una proposta di legge proprio del Movimento 5 Stelle per dire no all'utilizzo dei disturbanti, all'utilizzo dei prodotti chimici per la manutenzione delle strade e delle piazze di tutti quei luoghi pubblici frequentati dai cittadini. Per quanto riguarda i controlli sugli alimenti, onestamente dire che il glifosato si può utilizzare non giustifica il fatto che è presente all'interno degli alimenti, perché quegli alimenti noi ce li mangiamo e ce li beviamo. Ed è inimmaginabile pensare che non possiamo stare tranquilli nel momento in cui andiamo ad utilizzare questi alimenti. Quindi onestamente l'unica soluzione è quella proprio di non utilizzare più il glifosato, tant'è che sono usciti anche i rapporti ISPRA sul quantitativo di glifosato all'interno delle acque sia superficiali che sotterranei. I dati sono allarmanti. Sono allarmanti perché sono presenti in tutte le acque superficiali sotterranei, in quantitativi molto alti, in quelle regioni dove viene analizzato. Ad esempio la Lombardia o la Sicilia viene analizzato. In altre regioni, ad esempio la regione Marche, abbiamo cinque contaminanti che vengono analizzati all'interno delle acque superficiali sotterranee. nella regione Sicilia 180. Ci rendiamo conto della differenza che abbiamo dalle diverse regioni italiane sul controllo di questi principi, questi agenti chimici all'interno delle nostre acque. E acque sotterranee significa che sono acque che fra qualche anno ci berremo. E quindi onestamente vorrei più attenzione su questo tema. Vorrei che puntasse di più i piedi al Governo a livello europeo perché non mi sembra che stia facendo il suo dovere e dire definitivamente no all'utilizzo del glifosato, sia in Europa che in Italia. Grazie. Passiamo all'interpellanza numero 2364 del deputato Melilla, concellente iniziative per far fronte al fenomeno del sovraffollamento delle carceri in Abruzzo. Chiedo al deputato Melilla se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, onorevole Melilla. Sì, grazie Presidente. Molto brevemente, quando abbiamo presentato questa interpellanza avevamo una situazione molto grave per quanto riguarda il sovraffollamento della popolazione carceraria sia in Italia che negli otto istituti di pena della mia regione, l'Abruzzo. Avevamo 1.935 detenuti allora, adesso ne abbiamo 1.694. Quindi c'è stato un alleggerimento dovuto sicuramente dalle misure legislative che il Parlamento ha adottato.